Ragazzuoli, ciao a tutti! Finalmente torna il secondo video di giornata, significa che effettivamente sto un pochino meglio dopo gli ultimi giorni ed effettivamente tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato, o quattomeno ero proprio impossibilitato del parlare di questo tema che penso sia doveroso fare nel momento in cui l'allenatore è stato tanto criticato e spesso e volentieri nel corso della stagione si parlava beh a novembre arriveranno effettivamente i primi bilanci dove la Juventus avrà effettivamente la possibilità di poter valutare tutto con calma e di prendere poi magari di conseguenza anche delle decisioni visto che di tempo a disposizione prima del ritorno delle squadre di club passerà circa un mesetto, un mesetto e mezzo e quindi si avrà modo eventualmente anche di poter fare dei cambiamenti solo che appunto come banalmente avrete anche intuito dal titolo nel momento in cui si chiama Andiamo al Max è perché evidentemente un qualcosa soprattutto da dopo Monza ma anche forse da dopo Maccabi perché no dato che è stata la batosta recente più cocente un qualcosa effettivamente all'interno della Juventus che poi si è trasmesso anche sul campo beh è cambiato e indubbiamente è cambiato anche in modo positivo perché da quel momento in poi in campionato hai sempre vinto a differenza della Champions dove lì comunque sono arrivate due sconfitte di fila e se prima pensavo che in caso di qualche risultato un pochino così in campionato soprattutto magari nelle ultime partite negli scontri diretti che sembravano essere il vero problema della Juve e dell'Allegri Bis dato che l'unico scontro diretto vinto fino a Juve e Inter era stato proprio quello contro il Chelsea più di un anno fa ci sarebbe stato modo e magari anche proprio una concreta possibilità di vedere un esonero di vedere un cambio di allenatore cosa che invece poi appunto nel momento in cui fai sei vittorie di fila non prendi gol in queste sei vittorie di fila passi dall'ottavo posto alla non aggiornata al terzo alla quindicesima dove sulla carta dovresti essere in realtà appaiato alla seconda è normale che poi le valutazioni soprattutto da un punto di vista societario cambiano o che quantomeno da un certo punto di vista rimangono coerenti perché se anche nel momento dannatamente no la società tramite i suoi tesserati in ogni intervista diceva beh c'è la massima fiducia nell'allenatore figuriamoci dopo che riesce effettivamente ad ottenere un filotto molto importante di risultati e secondo me a questo punto vedendo la situazione che si è andata a creare nell'ultimo mese, mese e mezzo più o meno oltre che legittimo e quasi proprio doveroso andare avanti con Massimiliano Allegri con la speranza, con l'augurio ovviamente che si possa continuare sulla falsa riga di quelle che sono state le ultime sei partite si spera proprio per l'intero 2023 o quantomeno fino a giugno quando andrà a finire la stagione 2022-2023 appunto poi è normale che noi per forza di cose non ci dobbiamo dimenticare di quelli che sono stati gli errori e i problemi che indubbiamente ancora ci sono però mi riferisco soprattutto magari a degli episodi fallimentari come banalmente la Champions League, la campagna europea 2022-2023 che si chiusa con 5 sconfitte su 6 partite con l'approdo in Europa League solamente perché la quarta del tuo girone era il Maccabi Haifa che tra le altre cose ha concluso il girone con i tuoi stessi punti ma in Europa League sei andato te solamente perché loro hanno preso più gol di te all'interno della competizione quindi anche questa non è una cosa proprio meravigliosa sono riusciti a batterti, sono riusciti a fare i tre punti dopo che non vincevano in Champions League dal 2002 e indubbiamente questo qui non è un dato banale proprio per nulla però devi anche indubbiamente vedere ciò che sei riuscito a costruire da quel momento in avanti e se c'è la possibilità magari proprio di ripartire da quello cosa che ad oggi pare ci siano i presupposti per poterlo fare magari finalmente hai capito con quale assetto schierarti ed ovviamente mi riferisco al 3-5-2 a differenza di un 4-4-2 storto che oltre che far cascare dannatamente i maroni ad ogni partita nell'atto pratico non ti portava proprio nessun beneficio e soprattutto poi nessun risultato che credo sia la cosa più importante e magari hai capito anche su quali giocatori affidarti e in che modo magari un Kostic che al posto di metterlo ala banalmente esterno di centro campo ruolo che tra l'altro ricopriva anche all'entrac di Francoforte dove fondamentalmente è sbocciato e magari ha catturato proprio la tua attenzione un Bremer che al posto di metterlo banalmente nella difesa a 4 centrale della difesa 3 dove praticamente è sbocciato al Torino e anche lì magari ha catturato la tua attenzione per farti sborsare 50 milioni nel momento in cui non hai i famosi terzini moderni o terzini che banalmente a differenza di molti altri non ne hanno più a posto li adatti e magari possono risultare alle volte anche proprio decisivi come potrebbe essere il caso di Danilo ma soprattutto poi i giovani la forza fresca la forza di gente che ha voglia di mettersi in mostra e di conquistare la Juventus perché capisco che magari a primo impatto sia facile affidarsi a chi magari ha la nomea a chi magari ha più appeal però magari non fanno alla tua causa quantomeno al momento o non come chi ha una voglia matta di spaccare il mondo e di far di tutto per mettersi in mostra e qui per forza di cose poi mi riferisco ai vari Miretti ai vari Fagioli ai vari Sule ai vari Ealing Junior che in un pochissimo minutaggio ottenuto ha fatto più o meno 3 assist e 3 partite beh proprio mica da ridere 3 partite 3 spezzoni di partita ma a grandi linee ci siamo capiti poi è vero che magari tu ti sei affidato a questi giovani non per scelta ma più che altro per necessità nel momento in cui puntualmente ti ritrovavi per diverse partite con 7, 8, 9 alle volte anche 10 giocatori indisponibili quindi per forza di cose per selezione naturale nel momento in cui quelli hai quelli devi mettere ma mi auguro che Allegri abbia fatto un dannato tesoro di questa cosa qui ovvero che nel momento in cui c'è della gente che merita e che dimostra sul campo di meritarsi quel posto magari anche quando avrai tutti quanti a disposizione perché non dare possibilità a chi se la merita perché se l'è meritata sul campo con le prestazioni e in alcuni casi anche proprio con i risultati dato che c'è della gente che non ha visto il campo neanche per sbaglio che nel momento clou contro squadre anche importanti è stato decisivo e questa cosa proprio banale onestamente non è e quindi assolutamente ci sta nel momento in cui appunto vinci sei partite senza prendere gol e sei la miglior difesa con solamente sette gol subiti dopo quindici giornate dar la fiducia all'allenatore quanto meno fino alla fine della stagione spero anche fino alla fine della stagione perché significa che quanto meno fino a giugno sarai in corsa per la zona Champions League barra scudetto fate quello che volete in campionato l'Europa League che per me è importante e mi auguro che a prescindere da quello che sarà il piazzamento in campionato la Juventus possa far di tutto per vincerla perché intanto ti darebbe soldi ti darebbe la Champions da testa di serie e soprattutto ti darebbe un trofeo europeo in bacheca che manca dal 99 se si parla di Europa e non di Champions con la possibilità tra le altre cose poi di giocarti un'altra competizione europea che è la Supercoppa e vabbè anche la Coppa Italia che voglio dire nei periodi un pochino più di secca snobbarla non è mai il massimo soprattutto poi se in tutto questo grazie a tutte queste competizioni hai anche proprio la possibilità di dar continuità ai giovani o a chi magari non riesce a trovare particolare minutaggio però in linea di massima vedendo l'ultimo mese e mezzo ci sta continuare con Allegri perché penso che nelle ultime sei partite di campionato quantomeno si sia meritato la conferma quantomeno fino a fine stagione e se magari dopo Monza o dopo Maccabi sembrava non ci fossero i presupposti per andare avanti tutti quanti assieme se con i risultati effettivamente questo pensiero viene smentito o quantomeno momentaneamente lo è stato ci sta cioè io onestamente sono contento la mia priorità da tifoso non è quella di aver ragione è quella di vedere la mia squadra del cuore andar bene e quando la mia squadra del cuore effettivamente bene va io alzo le mani e sono felice a prescindere da chi scende in campo e da chi sia l'allenatore alla guida della squadra io non è che combatto per le mie idee ovviamente il mio pensiero ce l'ho il mio pensiero lo esprimo e lo condivido se è giusto bene se è sbagliato ma in compenso poi la Juventus va bene beh io alzo le mani ed ovviamente sono il primo contento e se magari dopo Monza o dopo Maccabi dicevo beh qui penso sia giunto il momento di cambiare e proprio perché appunto pensavo non ci fossero i presupposti per andare avanti perché sembrava soprattutto che ci fosse una squadra che remava completamente contro l'allenatore immaginarsi uno scenario del genere fino a che l'allenatore non sarebbe poi stato esonerato non era meraviglioso non era meraviglioso proprio per nulla ma se un qualcosa effettivamente è cambiato all'interno dello spogliatoio e poi di conseguenza anche sul campo io sono contento con la speranza di esserlo poi anche per larghi tratti del 2023 che ovviamente è la cosa più importante voi ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao ciao Grazie a tutti.